Ci siamo poi confrontati a lungo sul tema della prossima riunione informale dei ministri degli esteri. La presidenza ungherese prevedeva di convocarla a Budapest il 28 e il 29 del prossimo mese. Alcuni ritengono l'iniziativa del governo ungherese assunte in apertura del turno di presidenza dell'Unione, rischino di minare l'unità europea. Mi sono unito ai ministri che sono espressi contro strappi alla regola nel senso di preservare gli appuntamenti promossi della presidenza in nome dell'unità. Per essere chiari, ho detto che noi prendendo le distanze dalle iniziative di Orban non dobbiamo confondere l'istituzione con il governo. La presidenza è la presidenza ungherese, non è la presidenza di Orban. Perché se noi cominciamo come consiglio a dire questo governo ci piace, questo governo non ci piace, noi non possiamo delegittimare tutto il sistema. Al di là delle... Io ho detto andiamo, come ha detto la maggioranza dei ministri, e poi le diciamo a Orban tutto ciò che pensiamo sul suo comportamento in politica estera. Pur avendo lui detto che si muoveva il nome per conto del suo paese, non il nome per conto dell'Unione, però ha creato certamente dei problemi. Grazie. Grazie.